Cantante di musica leggera dotata di grinta e passionalità in grado di spaziare tra vari stili, dalla musica melodica, anche impegnata, passando per la musica pop e le canzoni dedicate ai bambini. Nel 1970 è stata definita da Lighiero Noschese come il pollice della canzone italiana, ossia una delle personalità musicali italiane più importanti, insieme a Mina, Ornella Vanuni, Patti, Bravo e Milva, con stat de non supernaturalitate, nessuna soprannaturalità. Il di Castero per la dottrina della fede, è intervenuto sulla controversa vicenda della sedicente veggente Gisella Cardia, e del marito Gianni, e le asserite apparizioni della Madonna nel terreno di loro proprietà a Trevignano, già bollate come non soprannaturali da un decreto emesso il 6 marzo dal vescovo di Civita Castellana, Monsignor Marco Salvi, disponendo anche il divieto assoluto di celebrare sacramenti o guidare atti di pietà popolare o d'organizzare pellegrinaggi, momenti di preghiera. La veggente, però, non si è fermata e ha sfidato ancora il Vaticano. Se ne è discusso a zona bianca, il programma di politica e di attualità condotto da Giuseppe Brindisi, con stat de non supernaturalitate, nessuna soprannaturalità. Il di Castero per la dottrina della fede, è intervenuto sulla controversa vicenda della sedicente veggente Gisella Cardia, e del marito Gianni, e le asserite apparizioni della Madonna nel terreno di loro proprietà a Trevignano, già bollate come non soprannaturali da un decreto emesso il 6 marzo dal vescovo di Civita Castellana, Monsignor Marco Salvi. Disponendo anche il divieto assoluto di celebrare sacramenti o guidare atti di pietà popolare o d'organizzare pellegrinaggi, momenti di preghiera. La veggente, però, non si è fermata e ha sfidato ancora il Vaticano. Se ne è discusso a zona bianca, il programma di politica e di attualità condotto da Giuseppe Brindisi. Leggi anche, Capezzone non ci sta, la veggente di Trevignano, e la buona fede delle persone. Avvocato. Lei è una donna giovane. Lei, lo giuri sulla Madonnina, ha mai creduto a questa signora, ha chiesto Iva Zanichi, rivolgendosi al legale della veggente. Io non faccio giuramenti prima di tutto, ha risposto l'avvocato. Lei non ci ha mai creduto. Lo vedo dall'occhio. È un avvocato e fa bene a difendere, ma non ci ha mai creduto. Ha rincarato la dose la cantante. Io sono cattolica e credo. Non sono in grado di dare risposte, perché la scienza non mi aiuta. Dimo zero stratemi il contrario. Le goccioline di sangue sono state analizzate, e nessuno sa dirci di che sangue si tratta. Non danno risposte perché non sono in grado. Perché? Ha replicato il legale. Io credo che la Madonnina piangesse sul serio a vedere quella povertà, quella miseria. Altro che piangere. Dovrebbe schiaffeggiare. Si sta parlando di soldi, di truffe, di denunce. Che c'entra l'apparizione? Andate, pregate, ma non credete sempre a queste persone che fanno solo del male. Ha aggiunto Gianicchi.